Grazie a tutti. Soggetti di 4 anni, 1 Baltimora Trio, 2 Berenna, 3 Breeding Demi, 4 Bamako Dei Grippi, 5 Babilonia Baba, 6 Burraio P, 8 Beatrice Matto, 9 Beckontop, 10 Bemon Chak SM. Questi partecipanti dietro le ali della macchina che entra indirittura, si ritrae Burraio P ed è veloce Babilonia Baba che cerca di scavalcare Breeding Demi, oggi veloce. Numero 2, Berenna, qualificato. Dei 7 Supercity, dopo 400 metri passati in 29 e mezzo, cammina all'avanguardia Breeding Demi che tiene per il momento a distanza Bamako Dei Grippi, il quale prova a risalire all'esterno trascinandosi Burraio OP, 44,9 per i primi 600 metri. Tira il passaggio davanti alle tribune, Breeding Demi e Enrico Bellè in controllo, Bamako Dei Grippi all'esterno lungo la corda Babilonia Baba che precede Beatrice Matto. In seconda pariglia c'è invece Burraio OP che precede back on top alla retroguardia alla corda Bemon Chak SM. Un minuto per i primi 800 metri di corsa di Breeding Demi che è in vantaggio e all'esterno vede sempre incombere la sagoma di Bamako Dei Grippi, 15,3 la frazione in curva. Per un chilometro che ovviamente in 1,15,3 allunga ora Breeding Demi, cerca di mettere in difficoltà Bamako Dei Grippi il quale coraggiosamente è di fuori dal primo metro. I tre quarti di miglio passati in 1,29,9 con una frazione in 14,6. Breeding Demi in vantaggio, Bamako che non si dà per vinto lungo la corda c'è invece Babilonia Baba, poi ancora Burraio OP e back on top che cerca di venire in mezzo alla pista prevenuto all'allievo di Emanuele Matteini. La piegata conclusiva passata in 15,1 da Breeding Demi, di dentro Babilonia Baba che aspetta il momento per sprintare, viene in mezzo alla pista, back on top insieme a Burraio OP, ma Breeding Demi sta allungando. Breeding Demi che vince facile nel percorso di testa al secondo Babilonia Baba, al terzo Beatrice Matto. 1,59,7, 1,14,6, raguaglio cronometrico parziali costanti impostati al comando da Enrico Bellei che porta al successo Breeding Demi, il training dello stesso Enrico con i colori della scuderia Eurocolor, l'ottavo successo in 14 corsi in carriera per il figlio di Ideale Luis che porta a casa il costo costo nella maniera più facile, seconda Babilonia Baba, terza Beatrice Matto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.